Aspira fino in fondo, apri la bocca e vai giù col bacino, così, bravo, devi sentire una liberazione, così, ok, adesso solleva le orecchie e lentamente alziamo il collo verso l'alto, ok, torniamo giù, lentamente, bravo, così, adesso ruotiamo la testa a sinistra, così, e torniamo indietro, lentamente, ok, adesso ci prepariamo per una cosa molto più difficile, ci alziamo, in piedi, sul piede solo, prova va dai, pancio, vai di su, dai, così, dai, dai pancio, oddio! Oh, io che male! Oh, oh, ti sei offeso? Pancio, pancio!